Appuntamento con attesa musica e motori venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno in Piazza Garibaldi e in Piazza Benedetti. Dai primi tipi di furgoni, quelli che hanno accompagnato la nascita e l'evoluzione dell'azienda, agli ultimi gioielli tecnologici che fanno di Sevel la fabbrica dei record, la più importante d'Europa per la produzione di veicoli commerciali leggeri. La manifestazione è stata presentata in conferenza stampa dal sindaco Giulio Borrelli e dal direttore artistico della Kermes, che è Max Ionata, uno dei maggiori sassofonisti della scena jazz contemporanea. Il 31 avremo Greta Panettieri, che è una bravissima cantante romana, che ha vissuto a New York per 10 anni e si è formata musicalmente lì. Poi è rientrata in Italia e stranamente ha iniziato a cantare in italiano e ha prodotto un disco bellissimo, Tributo a Mina. Dopo quel disco ha iniziato a cantare un po' in lungo e in largo per il nostro paese. Qualcuno la ricorda anche per la partecipazione ad un programma della Sette, che l'ha resa nota anche al grande pubblico. Poi abbiamo il primo giugno anche il grande Gegé Telesforo, col suo quartetto, col quale anch'io collaboro spesso. Lui non ha bisogno sicuramente di presentazione, perché è noto a tutti per le sue partecipazioni a programmi televisivi, come autore, come conduttore. E' questo programma radiofonico su Radio 24 che va benissimo, che si chiama Soundcheck ed è molto seguito. Che significato ha per te tornare da musicista affermato e appunto dirigere come direttore artistico una Kermess nota sul territorio? E' una bella cosa, è un lavoro che normalmente non faccio, non sono abituato a farlo, a preoccuparmi di scegliere la scelta musicale migliore per l'occasione. Questa volta ci ho provato, spero di aver centrato a pieno i gusti che possono essere quelli del pubblico, sia tessano che abruzzese in generale. E spero che abbia successo questa bellissima iniziativa. Oltre ai concerti di qualità, alla terza edizione sarà presentato anche il Museo Diffuso di Veicoli d'Epoca, a cura del Club Frentano Ruote Classiche.